I covered warrants li potete trovare come tutti i nostri strumenti di investimento, di trading all'interno del nostro sito che è www.investimenti.bmp.it, li trovate all'interno di Certificates a Leva cliccando sull'ultima voce che è appunto quella warrants. L'idea è stata quella di riportare uno strumento che comunque è molto scambiato su Sedex corrisponde come volumi a circa il 30% degli scambi sul mercato Sedex di Borsaliana riportare questo strumento sul mercato cercando di dare agli investitori non solo i classici strumenti diciamo Delta 1 a Leva come Turbo e Mini Future ma anche dei prodotti con opzionalità. I covered warrants quindi non sono altro che come molti sapranno delle opzioni con le put su un indice, un'azione con una scadenza che può essere più o meno breve con due potenziali tipologie di esercizio. Taluni hanno una tipologia di esercizio di tipo europeo quindi sono esercitabili solo a scadenza, altri invece hanno una tipologia di esercizio americano così come ad esempio le opzioni che sono quotate sull'IDEM. In questo momento abbiamo quotato sul mercato esclusivamente dei covered warrants sul Fuzzimib, vedete qui all'interno della pagina che trovate scorrendo l'emissione è ancora contenuta, abbiamo 23 prodotti, aumenteremo la gamma nei prossimi giorni. Francesco avete di fatto optato per l'indice italiano, presumo che nell'allargamento della gamma verranno inseriti quantomeno i maggiori titoli del nostro Fuzzimib, no? Esattamente, quindi l'idea sarà quella di partire col Fuzzimib che comunque rappresenta sul SEDEX il 90% degli scambi, quindi il core, diciamo, dei volumi anche per quanto riguarda gli interessi degli investitori. Abbiamo emesso quindi ovviamente sia col che put, quindi sia prodotti a leva a rialzo che a ribasso, le scadenze sono in questo momento a 6 e 12 mesi, quindi giugno 2017 e dicembre 2017. Sono le medesime che sono le stesse scadenze che potete trovare, ad esempio, sull'IDEM per quanto riguarda le opzioni quotate. All'interno della nostra pagina prodotto trovate quindi gli strumenti differenziati per leva, ovviamente a livelli di strike più bassi per quanto riguarda le colt, dovremo delle leve più basse e viceversa, andare su delle call molto out of the money permette di avere da un lato una leva molto più alta perché si paga di meno fondamentalmente il sottostante, dall'altro lato vedremo che comunque la moneyness, ovvero di quanto l'opzione in the money impatta anche il delta dello strumento che vedremo in seguito. Quindi andando ora magari sul... Sì, in realtà avevo una domanda che era un po' provocatoria che volevo farti, ossia adesso stavamo vedendo la pagina dei cover warrant scritti sul FuziMib e andremo uno specifico a vedere proprio le informazioni che si ricavano nella pagina di un determinato cover warrant. Tuttavia la mia domanda un po' così era, guardando i book, quindi guardando nel mercato, i book dei cover warrant offerti da alcuni dei vostri competitor, senza far nomi proprio perché comunque è un discorso generale, si nota come di fatto le quotazioni del cover warrant non vengano allineate dal market maker così in modo veloce, flessibile e dinamico come invece richiederebbe uno strumento particolarmente a leva anche in alcuni tratti e comunque uno strumento quotato. Voi cosa prevedete? Avete un market maker che continua ad aggiornare i prezzi realmente in velocità? Sì, diciamo che per quanto riguarda l'aggiornamento delle quotazioni è esattamente identico a quello che avviene sui turbo e mini future, quindi l'aggiornamento è in tempo reale, non ci sono buchi in cui magari il market maker assente comunque non aggiorna le quotazioni, non aggiorna magari né la sensibilità appunto sull'operazione del sottostante che è sulla volatilità, che come sappiamo sui cover warrant è molto importante, quindi per quanto riguarda l'aggiornamento e sarà ovviamente molto frequente ogni secondo. Per quanto riguarda l'impatto anche delle variazioni, segnalo che dato che noi emetteremo degli strumenti con scadenza molto breve, quindi a 6-12 mesi rispetto magari a quelli che sono in questo momento sul mercato, troviamo anche i cover warrant a 15-20 anni addirittura sul mercato italiano, l'aggiornamento frequente delle quotazioni è ovviamente un vantaggio maggiore, data la maggiore sensibilità appunto di opzioni più corte alle variazioni del sottostante.